L'emergenza si cita sul tavolo di una riunione tra la conferenza delle regioni e il capo della protezione civile Fabrizio Curcio. Non piove da settimane e la situazione è sempre più critica. Non ci attendiamo un'inversione di tendenza dal punto di vista meteorologico, ha dichiarato Curcio. L'idea è quella di varare con un decreto lo stato d'emergenza e di creare una cabina di regia con le regioni per definire i criteri e gli interventi da adottare. Per le Marche a Roma era presente l'assessore regionale alla protezione civile Stefano Guzzi. Ieri il direttore della protezione civile Curcio ci ha detto che sicuramente si attuerà uno stato d'emergenza. La possibilità di richiedere i stati d'emergenza secondo i territori, secondo le esigenze delle regioni, saranno indicate nelle prossime ore i criteri. Io credo che in questi criteri potrà rientrare anche la regione Marche perché si parla ovviamente della massima urgenza per quello che riguarda l'approvvigionamento idrico per usi civili, come noi facciamo qui Fano e Peso, che prendiamo l'acqua dal fiume Metauro per le nostre case. Poi per quel che riguarda i problemi della zootecnia, cioè animali al pascolo che non hanno più l'acqua, e anche su questo noi abbiamo dei problemi anche in questa provincia ma soprattutto nel sud delle Marche e zona Sibillini. Ed infine per le questioni dell'agricoltura. Se noi prendiamo ad esempio sempre i nostri territori lungo il fiume Cesano, il Cesano è quasi già di fatto a secco e lì non potranno più irrigare i campi perché molto spesso prendono l'acqua autorizzata ovviamente dal fiume Cesano. Quindi noi potremo rientrare come Marche in questo stato d'emergenza e sicuramente lo richiederemo nel momento in cui uscirà l'ordinanza della protezione civile nazionale. Però di fatto non è che ci risolverà il problema, perché non è che ci portano l'acqua da Roma. Potremo magari rientrare in qualche ristoro, come dire le spese sostenute per portare l'acqua con gli autobotti o per non poter irrigare i campi e perdere i raccolti, magari successivamente potremo rientrare in qualche ristoro. Questa è la situazione. E secondo lei quali potrebbero essere le soluzioni? Io ho posto questa questione, l'acqua va immagazzinata quando c'è, quando piove molto, quando fa neve poi si scioglie la neve, senza farla arrivare tutta esclusivamente a mare, secondo il normale ciclo della natura, magari creare degli invasi per poterla mantenere e poi utilizzarla, rilasciandola poco a poco lungo le aste fluviali durante l'estate. Su questo ho anche detto che ci sono, sul fiume Metauro ad esempio, ho parlato di questo, tre invasi, quello del Furlo, quello di San Lazzaro del Furlo e quello di Tavernelle, di Fossombrone scusa, quello di Tavernelle, che non sono di fatto quasi mai stati ripuliti nei decenni scorsi. Di conseguenza oggi sono a meno di un terzo delle loro potenzialità. Se quegli invasi fossero tutti puliti così come erano originariamente, una crisi tipo quella di quest'estate che noi abbiamo di fronte potrebbe essere del tutto evitata, perché magari un rilascio graduale di quelle risorse immagazzinate durante l'inverno ci garantirebbe l'acqua per tutta l'estate. Perlomeno ha proseguito l'assessore per l'utilizzo nelle nostre abitazioni. A Guzzi ieri ha proposto anche un'ordinanza della protezione civile per snellire queste procedure. E lì Curcio ha detto una frase così, molto tranquilla, dicendo ci sono delle normative molto stringenti, difficilmente si potranno eludere, anche perché se no poi ci si fa del male. Si fa del male vuol dire che poi ci sono le solite indagini, le solite denunce dal punto di vista ambientale, eccetera. Ciò non significa abbassare la guardia, puntualizzato, ma è difficile portare avanti queste iniziative che incontrano problemi anche per lo smaltimento dei materiali inquinati. Dunque come si muoveranno i prossimi giorni? Quindi per quel che riguarda il nostro territorio noi sicuramente chiederemo ai comuni i prossimi giorni di porre delle ordinanze che vietino lo spreco di acqua. Quindi non si potrà lavar l'auto, non si potrà regare il giardino di giorno, come del resto è avvenuto lo scorso anno. Per quel che riguarda la programmazione futura invece io ho già convocato per il 30 di giugno Enel Green Power che gestisce la diga di San Lazzaro del Furlo e di Tavernelle dove sono i tre invasi lungo il fiume Metauro per iniziare a ragionare per l'ennesima volta perché è stato tentato più volte questo percorso, la pulizia di questi invasi. Sul Furlo c'è già un progetto di massima. Il problema, io li avevo già visti pochi mesi fa, il problema era dove portare le ghiaie e i fanghi che da lì verrebbero tolti, la provincia pare che abbia individuato dei siti possibili e ho parlato proprio ieri col presidente della provincia, di conseguenza facciamo questo incontro e se ci saranno le condizioni come io spero faremo di tutto per questo si potrà iniziare intanto la pulizia prossimamente di quella del Furlo per poi proseguire magari con quella di San Lazzaro di Fossombroni e quella di Tavernelle. Se questo fosse possibile noi avremmo l'acqua, ripeto, anche per periodi lunghi di siccità perché lì sarebbe immagazzinata in quantità considerevoli.